stiamo correndo da riccardo che si perché abbiamo lanciato un grosso pesce andiamo subito a vedere se mi siede adesso stanco bella potrebbe essere bella perché è partita dopo due notti che in acqua questo è il terzo giorno e la madonna cosa c'è innescato tre giorni in acqua si muove veloce quindi tanto grossa non sembrerebbe ma la zona che tiene posturata questa riccardo la amica tante la regina hai avuto sempre già provato a usare questo tipo di approccio comunque delle esche che le metti semplici o gli metti una retina per farle durare solo con l'umino di neve ci metto qualche bolis intorno no ma dico ma sul lumino di neve metti una calza per non far sciogliere la bolis o sono un bolis che comunque ok quello volevo quando ho sentito la partenza della maria a giallo piace giallo il mio colore preferito amo continental arriva il trattore lo fermo un attimo c'è fagliela salamare prima questa non neanche se piangeva una cattura da dividere in due lei ha ferrato io ho tirato a su lei l'ha guadinata facciamole riprese insieme e la rimettiamo poi dopo e beh quello che ho fatto io non si conta allora tre scusami io ho di 3.000 monster è è è è è è è è Grazie.